Un benvenuto a tutti i cittadini che ci seguono attraverso la pagina istituzionale del Comune di Pellezzano. Questo momento è un momento che ho voluto per dare un aggiornamento su quella che è l'azione amministrativa dell'amministrazione comunale. Per il passato nella prese sede del Ente consigliatura a cadenza quindicinale davamo aggiornamenti su quella che è l'attività istituzionale dell'Ente e riprenderemo questo appuntamento e questa abitudine di dare alcune informazioni sull'attività istituzionale dell'amministrazione comunale. Voglio partire innanzitutto con questa giornata molto particolare perché voglio esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia dell'anno e Rizzo per la dipartita prematura di Fausto dell'anno che è stato consigliere comunale con cui ho condiviso un periodo amministrativo e politico nel 2014 con Fausto, persona sempre disponibile, gentile, accomodante e tra l'altro molto attento a quelle che sono le dinamiche del territorio e soprattutto con una spiccata sensibilità soprattutto sul sociale, alla famiglia e un pensiero particolare a lui e le nostre preghiere sicuramente va al Fausto dell'anno. Per quanto riguarda l'azione amministrativa partendo da quelle che sono le opere pubbliche ne abbiamo dato notizie nelle scorse settimane che l'amministrazione comunale grazie alla progettualità sia da parte degli assessori competenti che anche da parte degli uffici competenti è riuscita ad intercettare un finanziamento di circa 720 mila euro sui fondi PNR per l'adeguamento sismico e efficientamento energetico in trasformazioni in polo per l'infanzia della scuola media di Pellezzano, scuola media che è abbandonata da diversi anni, che fu chiusa per il passato e non si è mai intervenuto. Noi su Pellezzano Capoluogo ci tengo a precisare che a Pellezzano Capoluogo c'erano diverse difficoltà partendo dalla chiusura dell'ufficio postale, l'amministrazione comunale si è impegnata e infatti abbiamo avuto la riapertura dell'ufficio postale a Pellezzano Capoluogo. Siamo intervenuti sull'asilo di Via Vitale, riconsegnandolo dove è stato ospitato tra l'altro i centri di formazione dove attualmente la primaria svolge le attività in quanto siamo intervenuti anche sulla scuola della primaria elementare in Via Vitale che inaugureremo nella settimana dei festeggiamenti dedicata a Sant'Anna a fine mese anche con la festa finale del progetto Essate Pellezzanese. Su questo si va ad aggiungere la realizzazione del campetto nella frazione di Pellezzano, adesso con il completamento anche della scuola quindi definiamo un contenitore didattico e formativo alle istituzioni scolastiche del nostro territorio con un ulteriore cuolo dell'infanzio. Tutti gli impegni che avevamo assunto stiamo cercando di mantenerli e di portarli avanti compiutamente per quanto riguarda l'edilizia scolastica soprattutto. Per quanto riguardano gli altri impegni sulle opere pubbliche siamo quasi pronti alla sottoscrizione della firma del contratto di fitto che è la nuova caserma dei Carabinieri nella frazione di coperta, siamo in attesa che il demanio dia il nulla osso definitivo e inaugureremo nei prossimi mesi anche la nuova caserma dei Carabinieri che per noi è fulcro centrale anche nella posizione che abbiamo scelto al centro della frazione di Coperta nei locali dell'ex consultorio comunale dove tra l'altro l'amministrazione è intervenuta anche con gli adeguamenti degli ambienti degli ambulatori sanitari. Su questo c'è una programmazione attenta per quanto riguardano le opere pubbliche, stanno andando avanti i lavori sul Vallone Tullio, il Vallone Murcolo della frazione Pellezzano, ma c'è ancora da intercettare ulteriori fondi, noi su questo non ci fermiamo anche perché tutte le opportunità che abbiamo avuto in questi anni e che continuiamo a programmare sono su fondi vincolati e di cui l'amministrazione comunale è beneficiale, a poche cose vengono prevese dal bilancio ordinario. Per quanto riguarda l'approssimatarsi dell'estate, noi siamo partiti con i racconti d'estate e proprio oggi pomeriggio, venerdì 28 giugno, avremo Violante Placide nella villa comunale di Coperti, abbiamo avuto Conticini, abbiamo avuto Melozzi, abbiamo avuto Di Marzio con i primi appuntamenti, c'è una programmazione della rassegna di live media che è promossa dall'associazione di live media e patrocinata dal comune di Pellezzano. Il 3 luglio al complesso monumentale dell'Ermo dello Spirito Santo ospiteremo il concerto dell'orchestra dell'istituto comprensivo di Pellezzano sul terrazzo all'aperto con vista sul golfo di Salerno è una bella occasione, soprattutto ne approfitto per informare i genitori che verranno ad assistere al concerto, ma anche i cittadini che vorranno arrecarsi al complesso monumentale dello Spirito Santo, che l'amministrazione comunale ha attivato le navette che partiranno direttamente dal parcheggio del palazzetto dello Sporto a Capriglie e che accompagneranno i visitatori e coloro che vogliono assistere al concerto direttamente al complesso monumentale dello Spirito Santo. Su questo preannuncio che tra l'altro il 6 luglio ospiteremo sempre al complesso monumentale dello Spirito Santo nell'ambito del Tirreno Jets Festival Walter Ricci, un partenariato importante con una rassegna che si svolge in maniera itinerante per la provincia di Salerno e per la regione Campania, uno dei nomi più importanti del Jets sarà di ingresso gratuito e anche per questa modalità c'è la possibilità di usufruire delle navette per raggiungere il complesso monumentale dello Spirito Santo. Proseguendo su quella che è l'attività sociale e culturale, partono i progetti estate per lezzanesi dai 6-12 anni come la tradizione e un altro progetto che l'assessorata alle politiche sociali ha voluto realizzare è quello per i bambini dai 3 ai 6 anni che ha riscosso un buon successo e che si svolgerà presso l'Educampus che è l'asilo nido fatto in project financing dove tra l'altro l'amministrazione comunale nei mesi scorsi ha inaugurato anche il centro cottura a servizio della struttura ma soprattutto anche delle scuole con l'inizio del nuovo anno scolastico. Per quanto riguardano ancora le attività sociali il lunedì verrà pubblicato il manifesto per quanto riguarda l'avviso pubblico per l'iscrizione al soggiorno over 65, altra attività che si svolge da diversi anni su cui l'amministrazione comunale ha sempre puntato in maniera determinante. Per quanto riguardano le altre attività è partito il torneo delle frazioni, altra attività molto sentita dai giovani delle cinque frazioni del comune di Pellezzano seguito dal vice sindaco Michele Murino con Derica Allosport c'è molta partecipazione su quelle che sono le iniziative di un po' tutte le associazioni del territorio a cui c'è sempre un'attenzione molto forte da parte dell'amministrazione a patrocinare a sostenere tutte le iniziative che vengono proposte dalle associazioni dilettantistiche del nostro territorio nei vari settori che vanno dal calcio alla pallavolo alla danza a tutte le attività e Pellezzano su questo ha una programmazione molto importante soprattutto grazie all'attivismo delle associazioni e credo che il compito di chi amministra il comune è di sostenere tutte le iniziative anche in ambito privato patrocinando quelle che possono essere le manifestazioni. Per quanto riguarda l'ambiente nel prossimo mese di luglio avremo l'attivazione anche di un nucleo di guardie ambientali sul territorio per il controllo del corretto conferimento della raccolta differenziata che è arrivata da una buona percentuale di raccolta differenziata ma soprattutto installeremo le prime macchine per la distribuzione dei kit della raccolta differenziata. Le buste sarà possibile nel momento in cui termineranno oltre alla solita distribuzione che faremo annualmente non più a cadenza ogni tre mesi ogni sei mesi avremo la possibilità a palazzo di città in un'altra postazione che stiamo determinando anche di avere degli distributori automatici che inserendo la propria posizione tributare il proprio codice fiscale distribuisce in automatico il kit di quelle che sono le buste per un corretto conferimento dei rifiuti su questo logicamente stiamo lavorando insieme alla ditta che si occupa della manutenzione su tutto quello che il territorio so che ci sono difficoltà per quanto riguardano ci viene richiesto in maniera più forte disinfettazione e dirattizzazione noi su questo abbiamo stimolato più volte l'ASA ad intervenire affiggiamo i manifesti ogni qual volta viene effettuato un intervento di dirattizzazione e disinfettazione partiremo in questa settimana anche con il lavaggio di tutti i parchi giochi e delle giostrine che sono all'interno dei parchi il taglio a erba ormai è consolidato e viene effettuato in tutte le frazioni con cadenza quotidiana da parte della ditta che si occupa della manutenzione ci sono altre cose che logicamente l'amministrazione comunale sta portando avanti in termini di iniziative importanti sicuramente nei prossimi giorni che avremo l'opportunità nel prossimo appuntamento di approfondimento daremo ulteriori informazioni alla cittadinanza di quella che l'azione amministrativa e soprattutto del rapporto istituzionale tra cittadino e eh comune tra sindaco e amministrazione comunale perché è importante che i cittadini possano essere informati completamente su quella che l'azione amministrativa che stiamo portando avanti in questa seconda consigliatura grazie a tutti grazie a tutti